Salve, sono Pietro Pinto, il regista di Adam e siamo in selezione all'Ariano Film Festival, siamo felicissimi di questa selezione. Questo film, Adam, è un film che parla di una tematica abbastanza complessa attraverso sci-fi, un'avventura, è stato fare questo film, un film veramente ambizioso ma che siamo riusciti in qualche modo con l'aiuto di un fantastico crew, di un fantastico cast a portare avanti e a girare e finalmente lo vediamo in diversi festival in giro per il mondo. Quindi siamo felicissimi di essere qui con voi e un abbraccio, un abbraccio dalla California. Grazie a tutti. Ciao, sono Gianluca Manzetti, il regista di Fake, ovvero fonti imminenti inconfutabili confermano. Avete presente la storia di Pierino e il lupo che vi raccontavano da piccoli? Bene, prendetela, portatela nel 2020 e immaginate che Pierino sia un venditore di bufale online e il lupo delle fake news. Ma accidentalmente una di queste fake news potrebbe essere vera. Buona visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.